Firenze, Prato e Pistoia. Fare rete fra i territori. Pensare e agire come area metropolitana per cogliere insieme le opportunità della ripresa e creare un terreno comune per lo sviluppo delle imprese. Questo è il tema centrale della decima giornata dell'economia che si è svolta a Pistoia. È stata un'intuizione della Camera di Firenze che già nel 2009 ha pensato di proporre alle imprese, al tessuto economico, la giornata dell'economia in maniera congiunta tra la Camera di Firenze e quella di Prato. L'anno scorso, che era già il 2011, insieme a Firenze e allo stesso Prato si è aggiunta a Pistoia. Il sistema camerale ha nel suo ambito della propria azione lo sviluppo economico dei territori e parlare di sviluppo economico dei territori vuol dire avere quegli strumenti che servono a creare le condizioni dello sviluppo e le infrastrutture sono certamente il sale di questo percorso. Oggi in questa importante riunione che vede vicino e insieme le tre camere di commercio di questa grande area metropolitana, Firenze, Prato e Pistoia, la dice tutta di come questo sistema economico delle imprese sta ragionando su come sempre di più integrarsi per poter in qualche modo fare massa critica e mettere insieme i grandi valori che questa economia di questo territorio ha e logicamente questi grandi valori devono di per contro avere dietro quelle infrastrutture che servono per poter guardare al futuro con la maggiore dinamicità possibile con quegli strumenti che serviranno ad integrare meglio queste economie ma per dargli quella competitività di cui hanno bisogno e che è insita io credo all'interno di questa grande capacità imprenditoriale di questa gente. Quindi io mi auguro che da oggi ci sia un passo in avanti ulteriore con i protagonisti che oggi interverranno anche a questo convegno per dare un futuro migliore io dico a quest'area così preziosa della Toscana ma quest'area così preziosa di quest'Italia di mezzo, di quest'Italia così importante per la crescita e anche per le prospettive del nostro domani. Al di là di poter discutere in maniera aperta con le imprese e con gli additti ai lavori di quelli che sono stati risultati economici dell'anno appena trascorso, è un segnale importante per dimostrare che le camere di commercio in autonomia hanno già deciso di fatto che la città è una e sola, è quella metropolitana che poi si chiami area vasta, area metropolitana, non ha importanza ma Firenze, Prato e Pistoia definiscono con questo atto che le condizioni per poter collaborare e trovare un tuntuno in termini di sintesi su alcuni aspetti è una realtà. Grazie